Sono stati presi i componenti della banda specializzata nei furti di mezzi pesanti. Quattro ordinanze di custodia cautelare, tre delle quali in carcere sono state eseguite all'alba di oggi dai carabinieri del Nuclo Operativo del Comando Provinciale di Teramo, diretti dal colonnello Pasquale Saccone, con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del Nuclo Cinofili di Chieti e Bologna nelle province di Teramo e Foggia. In manette sono finiti coloro che vengono ritenuti gli autori di almeno una dozzina di furti di camion e mezzi d'opera, che nel corso dei mesi avevano fruttato un bottino di circa 2 milioni di euro. I militari terramani al termine di oltre sei mesi di indagini hanno notificato i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Teramo, che riguardano tre terramani residenti tra Mociano e Giulianova e un Foggiano. Nei quattro, uno dei terramani ha ottenuto la detenzione agli arresti domiciliari. Gli altri tre sono stati rinchiusi nelle rispettive carceri della zona. Le indagini erano partite dall'arresto in flagranza di reato di un terramani o di un pugliese lo scorso 19 maggio a Tortoreto, quando furono sorpresi a bordo di due mezzi pesanti in un piazzale all'interno di un'azienda del posto, in procinto di allontanarsi a bordo dei camion. Da lì è emerso il coinvolgimento della piccola banda in altri furti, verificatisi tra Marche, Abruzzo e Puglia. In totale, come detto, sono stati dodici mezzi pesanti e quelli in uso nei cantieri, che si ritiene siano stati sottratti dei quattro. Nove di questi mezzi sono stati recuperati dai carabinieri, restituiti ai legittimi proprietari. L'operazione è stata convenzionalmente denominata Pokerdassi, in quanto spesso gli oderni indagati commissionavano i furti facendo riferimento alle caratteristiche tecniche dei mezzi, e spesso i più richiesti da destinare al successivo mercato della ricettazione erano proprio i mezzi con quattro assi, ma se ne rubavano anche con tre assi o due assi. L'operazione ha permesso di smantellare un dispositivo criminale molto rodato in cui ogni indagato aveva il suo specifico compito. Infatti, due degli arrestati giravano per cantieri e depositi locali, dove individuavano i mezzi da rubare, e con l'ausilio di soggetti che per lo specifico obiettivo provenivano da Foggia, si procedeva ai furti. Conducendo successivamente la refurtiva nella provincia pugliese, dove i mezzi venivano in parte ripunzonati o rimessi in vendita, altri smontati e venduti quali pezzi di ricambio.